Credo che sia abbastanza chiaro a tutti ormai che questi stati generali sono una ignobile baracconata organizzata da Casellino o per Conte, priva di qualunque soluzione pratica ai problemi di un paese che versa in una condizione drammatica, anche perché le iniziative poste in essere dal governo non stanno funzionando. E fa tristezza vedere persone in fondo serie come Gualtieri, come posso dire, far parte di questo Circo Barnum e coinvolgere personalità internazionali in questa roba che non si sa neanche bene cos'è, dove i ministri invece di incontrarsi a Palazzo Chigi e decidere sulle tante cose, dalla scuola alle garanzie che non stanno funzionando, si collegano con importanti personalità internazionali, una delle quali fa dieci minuti di discorso, di cui sostanzialmente non emerge nulla, come ovviamente non potrebbe emergere nulla. Però tutto questo potremmo anche tollerarlo, in fondo non è la prima volta che in Italia si fanno baracconate simili, non è la prima volta che si cerca di distrarre l'attenzione dai problemi concreti. C'è un punto però che è meno sottolineato, forse vale la pena sottolinearlo, è l'incredibile figuraccia che facciamo ogni volta a livello internazionale. Cioè l'idea che invece di essere un paese serio, un paese che va in Europa e dice questo è il nostro piano per l'uso del Recovery Fund, per l'uso del MES, per l'uso dei 6 miliardi e 700 milioni di fondi strutturali che dall'inizio della crisi languono in una discussione infinita con la regione, questo è quello che vogliamo fare per rilanciarci. E andiamo lì in modo serio, in modo articolato, con un piano che ha senso, che è costruito sulle necessità del paese, invece di tutto questo organizziamo quest'altra roba che in nessun paese del mondo si organizza, in una villa, con Casalino che fa uscire i pizzini per i giornalisti in cui dicono quanto è brava l'Italia, è una roba indegna. Noi pensiamo che questo non conti niente in fondo perché un po' ci siamo abituati e un po' non capiamo che non siamo condannati a essere considerati un paese poco serio, non siamo condannati, l'Italia non è condannata a essere rappresentata da Conte e Casalino e dalle loro baracconate e lo dico anche al Partito Democratico che sostiene e non sostiene questo tipo di cose ma poi ci manda il povero Gualtieri a rispondere a domande improbabili con risposte altrettanto improbabili. Ecco tutto questo è lesivo dell'immagine dell'Italia e allora questi stati generali, questa baracconata di Conte e Casalino su cui potremmo farci una risata e chiuderla lì, diventano invece gravi perché l'Italia come tutti i grandi paesi vive della propria immagine e spesso la propria immagine è danneggiata proprio da questo tipo di atteggiamento parolaio e poco serio e vederlo per chi ha rappresentato l'Italia ha provato a farlo in modo appunto diverso cercando di stare sui dossier, di parlare delle cose che contano, di farlo nel modo in cui si fa nella comunità internazionale e questo è un dolore, un dispiacere perché l'Italia seria è meglio di così, l'Italia seria c'è e forse è il caso che l'Italia seria incominci a mobilitarsi a dire che questo tipo di rappresentanti non è degno di parlare per noi a livello internazionale